Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video con un piccolo ripasso perché torniamo sulla rete di ZK Sync, principalmente quella Lite che è quella che è arrivata prima della mainnet vera e propria di ZK Sync però è importante comunque andare a vedere perché siamo sempre più vicini al lancio poi del loro token che avevano annunciato comunque per il Q1 2024, quindi all'incirca tra gennaio, febbraio e marzo come fase quindi quello che c'è da vedere adesso sono dei piccoli passaggi semplicissimi per poter avere un'eleggibilità in più come era stata anche fatta per Arbitrum se questi video vi piacciono ragazzi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto bene passiamo subito a schermo e scopriamo quello che dobbiamo fare e quindi questo piccolo ripasso su ZK Sync eccoci quindi cripto affezionati su ZK Sync anche se stiamo tornando su ZK Sync Lite che abbiamo visto utilizzata comunque tempo fa per fare le prime interazioni su ZK Sync allora perché sono qua a riportarvi questo? Perché è semplicemente un reminder molto importante per quanto riguarda appunto ZK Sync e il suo futuro airdrop dovremo utilizzare appunto Lite e per trasferire su Lite dovremo utilizzare Orbiter Finance se non avete ovviamente i capitali perché in questo caso vediamo un po' eccolo qua ZK Sync Lite sceglierete la vostra chain che vorrete e trasferirete da Arbitrum, Ethereum, insomma la chain che sceglierete su ZK Sync Lite su ZK Sync Lite una volta avuti comunque i capitali possiamo andare ad interagire con diverse cose prima tra tutte è proprio ZigZag che è un DEX quindi perpetui, swap, bridge, insomma varie cose che si può andare ad utilizzare per interagire e creare delle transazioni prima tra tutte in questo caso è proprio Lite con 10-15 transazioni all'incirca per avere un'elegibilità anche più potenziale ecco di interazione e lo potremo fare semplicemente andando a utilizzare il trading quindi in questo caso buy o sell su market lo lasciate aperto qualche secondo poi lo chiudete e poi lo riaprite quindi è una cosa molto molto semplice e molto veloce poi per verificare comunque le vostre transazioni se vorrete vi basterà andare su ZK Sync Lite Block Scan e qui potrete andare a vedere nel vostro explorer quali e quante transazioni avete fatto quindi qua molto semplice come detto appunto mettete un amount in Ethereum in questo caso o USDC che sia connettete e mettete ovviamente la percentuale che volete aprire all'interno di questa posizione qua sotto avrete la vostra posizione e potrete come action mettere chiudi quindi vendere o comprare o comunque chiudere l'operazione per poter mettere fine a questa transazione attuale così appunto per altre transazioni ovviamente più ne fate in questo caso meglio è è anche comunque in questo momento un pochettino più costosa rispetto al solito però molto meno costosa rispetto ad altre chain la ZK Sync era ad esempio molto più costosa in questo momento però ecco interessante poter creare degli scambi fatto questo una parte molto importante dovrete andare proprio su ZK Sync Lite che è la parte di NFT quindi NFT su ZK Sync Lite dove poter fare il mint di un NFT quindi in questo caso dovrete andare proprio qua io qua ne ho già richiesti comunque tempo fa mint NFT eccolo qua dovrete andare a mettere quindi authorize su mint NFT dovrete fare autorizzazione quindi confermare quindi firmare in questo caso e poi qua vi chiede content address quindi 0x hash or chied cosa dovrete andare a fare? dovrete aprire Metamask andare nelle attività su ZK Sync Lite che in realtà poi ve la leggerà come tiri un mainnet tutto normale dovrete cliccare qua sopra copiare i di transazione ed incollarla qua all'interno una volta fatto questo farete il mint dell'NFT e pagherete ecco qua la prima firma dovrebbe uscire anche il pop up delle fees se non ricordo male ok non c'è c'è un eth fee in questo caso di 0.29 che vi scalerò in automatico e basta una volta che avrete fatto questo ragazzi avete completamente finito quindi mint più zigzag invece la parte di creazione delle transazioni sempre su ZK Sync Lite fatemi sapere se siete o se li avevate comunque già fatti una cosa interessante essendo comunque vicini al momento comunque del rilascio del token di ZK Sync secondo me è molto importante fare comunque delle interazioni già anche adesso anche se ripetitive si ripetono anche se ne avete già fatte magari un tot meglio essere diciamo attivi recentemente quindi vicini poi all'eventuale rilascio del token perché potrebbe essere comunque un'elegibilità specialmente dei mesi comunque consecutivi di attività quindi farlo adesso a dicembre poi farlo a gennaio poi farlo a febbraio fino a che non arriverà il momento nel quale andranno a rilasciare questo tanto atteso airdrop bene criptoaffezionati abbiamo visto appunto come sono questi piccoli passaggi semplicissimi da fare ma molto importanti per quello che potrà essere il futuro e quindi il rilascio del token di ZK Sync perlomeno un'elegibilità in più tra le tante comunque richieste che poi faranno molto probabilmente all'interno dei requisiti comunque per ricevere o comunque il climare lo scopriremo poi più avanti l'airdrop di ZK se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi nuovi airdrop